Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale, oggi siamo con una nuova puntata di GTA 5, la storia, e nel precedente episodio è successo ragazzi, il momento della verità, Michael vs. Trevor, si è scoperto chi c'è a posto di Michael dentro quella tomba, chi è morto a posto suo, ovvero Brad, il loro più caro amico, che è morto sul serio ragazzi, gli hanno sparato, Michael non l'aveva previsto questo, però doveva morire qualcuno, Trevor lo ha saputo, è andato fuori di testa, si stavano per uccidere, però poi sono intervenuti gli uomini di Trevor, i cinesi se possiamo chiamarli così, non so se sono cinesi o giapponesi, che sono intervenuti rapendo Michael, Trevor non ha mosso neanche un dito ragazzi, E ora, abbiamo una missione per Damian Winston ragazzi, finalmente è ritornato, direi di andarla a fare con Franklin, perché Trevor, a parte il fatto che non lo voglio più vedere, perché mo' non neanche ha salvato Michael, anche se ci sta ragazzi, come reazione, se ci pensate Comunque il tempo fa cacare, quindi vediamo se in questo episodio possiamo andare a usare i trucchi e possiamo cambiare questo tempo grigio Ricordiamo che Michael è ancora prigioniero, infatti non lo possiamo andare a usare, quindi dovremo liberarlo, me lo auguro in questo episodio, chissà se è ancora vivo, non lo so ragazzi Sì è ancora vivo, è una battuta però, vabbè lo dobbiamo andare a salvare assolutamente ragazzi, è importante, poi abbiamo fatto anche una promessa alla moglie insomma Ok Google Tetto o croce Eh dai però no, non è possibile, io mo' devo guidare con la pioggia, ma che due, ma che pilla raga Io pensavo che in questo episodio, anzi ero sicuro, guardate sono tutto zuppo, sono zuppo, sono zuppo, sono zuppo, che palla, vabbè, vabbè, pazienza ragazzi, si guida con la pioggia, si guida Andiamo No, il fumo non esce neanche, esce solo acqua Vabbè, dove dobbiamo andare ragazzi, non ho visto Ah, eh, sì, ve l'ho fatto vedere che questa è la mia proprietà, infatti i soldi a Franklin sono tanti Dunque dobbiamo andare di qua Vabbè, no, non è neanche tanto lontano Comunque volevo un attimo parlare di quello che è successo nella puntata scorsa Voi che cosa ne pensate, mi raccomando, scrivetelo sempre sotto nei commenti Cosa ne pensate della scelta che ha fatto Michael? Perché io l'ho detto ragazzi In questa storia hanno fatto tutti degli errori Michael voleva uscire fuori, aveva una famiglia E l'unico modo per uscire da quell'ultimo colpo, che era diventato un massacro, non lo avevano preparato bene Era una trappola, era mollare E come ha fatto? Ha fatto un patto Con questo qui che alla fine, quindi, si è rivelato una brava persona Alla fine il fatto che abbiamo fatto è soltanto per tirarci fuori Però il punto è che adesso siamo rientrati dentro Quindi non è servito assolutamente a niente Di fatti la famiglia se ne è andata È per questo che Michael se ne vuole andare più presto Proprio per questo motivo E ci sta ragazzi, ci sta assolutamente il motivo Però magari anche lui, ovviamente questo è stato una zab, è stato un errore Ovviamente, ovviamente Sotto sotto ci tiene un po' a Trevor perché è il suo carissimo amico Però ovviamente Trevor, guardate come reagisce Un pazzo assoluto Non so se è stato un po' dettato da quello che è successo con quell'ultimo colpo Anche se gli interessavano solo i soldi Oppure è sempre stato così Però, da quello che ho capito, già ci avevano anticipato che Trevor era così Per cui ragazzi, non lo so Io direi che Che purtroppo ci sarà sempre dell'azzo tra questi due È inutile ragazzi È inutile, è inutile Ora Franklin avrà tante domande a Trevor Del tipo Dove è finito Michael? È buono, lo so io Ma questa è la nostra vecchia casa Interessante Oddio, non l'amore Recupera l'auto Dobbiamo rubare un'altra auto Praticamente Ricordiamoci che ci deve assolutamente ancora pagare Infatti Franklin A fretta Ah cavolo abbiamo fatto minimo 3-4 missioni per lui Scusami Colpa mia, colpa mia È minimo adesso ci deve pagare Ma che mattina dobbiamo prendere domande? Ah questa Ah lei Ah, dovevo guidarla a noi Interessante Però la mia macchina è comunque più bella Vabbè ci respawna quindi sti cavoli ragazzi Prendiamo questa macchina Prendiamo questa macchina Porta l'auto in garage Ah praticamente Se dobbiamo portare soltanto questa auto Comunque la vuole rubare le auto GG Sì, professionista bravo Sì, professionista bravo Va bene Mi rilasso Oh, ok Dobbiamo metterlo in fila Ah, eccolo Trevor 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 Mannaggia In questa puntata mi sta sul cazzo Trevor ve lo dico Perché Vabbè Niente raga Dai Sali cazzo Ah, meno male Perché dobbiamo guidare Eh, vabbè Sì, 12 chilometri Ho capito Che due scatole ragazzi Queste sono tutte le macchine Però che abbiamo rubato Le due macchine che vedete sopra Sono quelle di Michael e Trevor Nel primo Quella è quella con Franklin E questa quella di adesso Sì, non cazzo Non cazzo Dane, quello che ho ho sentito All cannibalistici e s**t Frank, cosa hai detto Lui? Dio quello che ho vedo Ami Tu fai sull'amore Ah, rumore E' la risa Abbiamo un lungo Di più Mi sono piaciuto Allora, n***a Ma non provi Niente Qua lunga è? E questa cosa? Qua lunga Qua giornata Quattro ore ma Per come guido io Minimo 20 minuti guarda 10 minuti proprio Quattro ore ma Quattro ore ma Like maybe he's dead The last Oh shit man Fuck Do Frank know about this? I don't know if Franklin knows But let's just let him sleep Yeah Bummer But you know He wasn't the good guy He made out Man dude was a killer A thief A liar And irritable as shit Yeah A liar Above all else Fucking liar Cioè Briviti Dai Cioè Ma Franklin Perché dorme I am some bitch He didn't call for 10 years Fuck man He fucked you The fucker got Damn He fucked the fucker himself Shut up Man the first time is always special I hope he was gentle with you Enough of that And enough about me fucking I don't do that As a rule Maybe when I got to L.S. I was I was a little Overwhelmed by the place I got a little out of control But that ain't who I am For the most part But the Michael fucked you Yeah The Michael fucked And the Michael fucked Brad And the Michael ran off with the F.I.V Brad? Who Who the fuck is Brad? Brad is our boy back from the day And Michael killed him? Michael got him killed He died when Michael faked his death I thought Michael died And Brad was in the pen When actually Brad was in the ground And Michael wasn't hiding And now Michael's dead And it's all okay? Michael's current condition is unconfirmed I said that But if he was dead You'd be cool Because of this Brad dude Who died whenever Yes Man I thought you and Michael were tight So did I Okay That makes a lot of fucking sense Ma no Per me no Io pensavo che Michael Ragazzi Non 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 credevo Cioè scusate Non riesco a parlare Ma non credevo Che L'avesse fatto uccidere L'avesse fatto uccidere Truckers on the blacktop Making doom I don't need to make doom I need to make snaps On these rocks Sure Yeah The time will come It's what happens Before we get paid Is what Franklin's asleep It's just me And you What? What you trying to say? You want me to jack you off Or something? Jesus No God no Of course not Unless Man you're a sick fiend Just fiending For some friendship Friendship? Right Whatever man It's just Truckers are a symbol Of this country And a part of its mythology Like cowboys Gangsters Hobos Gangbang Truckers are about The unsexiest myth I've ever heard Apart from hobos Maybe tied with hobos Freedom Loners in the night You know what truckers do? Cut up women And get other dudes To jack them off Come to think about it Aside from not lugging freight Around the country You've got about all the necessary prerequisites For a fine career in Holland No shame in that If you don't want to get paid Or enjoy human contact Money is bullshit So is friendship Alright 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 I see you still touching Oh Raga Allora Io Questo cambia un po' tutto Dal mio punto di vista di Michael Perché se l'ha fatto veramente uccidere Ha sbagliato proprio Cioè Trevor sbaglia sempre Però stavolta A sto punto Allora L'azione di Trevor È tanto giustificata Allora Che l'ha lasciato là Però Michael Lo dobbiamo andare a salvare Assolutamente Ah E pensiamo pure Ragazzi Scusate se gli parlo sopra Ma tanto Stanno a dire cavolate Lo so È molto complicato Da capire ragazzi Comunque Siamo solo 6 km e 3 ragazzi Mi e Frank Non esattamente Travevano in simili circoli No Mi chiedo Il creepo Michael Ha Non lo so Sì 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 Scusate Se non voglio Reminiscer Le wound Non sono curate Sei così delicato L'ho Di attenzione Di dove hai il p***o Cosa hai in là Scroo Ti È bene Lasci 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 If Si Le Si Si Il Che Che A Is Si Non c'è la fronte, il monello è buono, e non c'è abbastanza per cercare le referenze, quindi sono in. Un po' di anni dopo, guardo la ruota, e vedo questa piazza che arriva dalla ruota, ma non c'è una piazza di piazza, sono due. L'ho detto da un uomo in cargola, il primo carro arriva dalla porta, e qualcuno arriva. È il mio agio, 20 anni, tipo... Oh shit, cosa succede? No, volevo sentire la storia, ragazzi, di come si sono conosciuti. Ma perché la... Ma la polizia, ma perché la polizia? Ma io volevo sentire la storia, ragazzi. Ma perché? Tieni fermo il camion per Franklin, io sono fermissimo. La fai eh? Vai, 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 sono fermo come una statua. Vabbè, dovrebbe succedere qualcosa, sennò che missione è? Dai, ce la fai Trevor? Oddio! Scusa, scusami, scusami... È che devo tenerla ferma. Ok... Trevor, come stai messo? Io qua sto a guida... Ah, eccolo là, lo vediamo, lo vediamo. Vai, 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 vai. Dai che ce l'hai fatta. Esatto, cioè, guarda, sei un gufo di M. La polizia ce l'abbiamo dietro al sedere. Ma cosa stai facendo? Dai che ce la fai? Ma cosa sta facendo parte lì? Ma no, ma no. No, io penso che ce l'hanno con uno che non ha pagato la bolletta sto mese. Assolutamente. Ok. Sì, facciamolo, ragazzi. Che dobbiamo fare? Ah, questa qui, ragazzi, che c'è i chiodi. Vi ricordate? Sì, sì, sì. Ma no, eh, 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 eh. Olè. Olè, ma sta macchina, ragazzi, è fortissima. È la macchina di 007, proprio. Comunque devo aspettare che vengono proprio dietro, dietro, dietro al sedere, ragazzi. Eh, non li vedo. Ecco, adesso. Ok. Vedete, vedete? Ok. Aspetta ce l'abbiamo dietro al sedere, tipo così. Perfetto. Guardate. Easy, easy, easy. Ancora facciamo, ragazzi. Sì, 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 dai. Però quanti ne sono? Oh, dai. Olè, olè, olè. Sì, sì, ma li stoffa fuori tutti, regà. Vai. Non li vedono. Olè, olè, olè. Sono finiti, sì, ragà, ma è facile con i chiavi. Scusate se non ho sparato, ma non serviva. Cioè, ci sono i chiavi. Ora? Che dove lo fa? Sono finiti? Olè. Scusate. 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 Ok, sì. Seguiamo il camion, ragazzi. Finalmente vediamo un po' una macchina migliore. Anche se. Alla fine. Dobbiamo seguirlo, quindi. Dobbiamo andare piano. Come, come comunque. Eh esatto Ok ora ci deve pagare Ho paura che succeda qualcosa Se non ci paga io lo ammazzo con le mie mani Neanche se si chiama come me non me ne frega niente Che cosa si chiama come me ne frega niente O che si chiama come me ne frega niente In light of the drama your efforts caused We felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known He's obviously a maverick But he's also rigorous in his research Yeah he may be brilliant Look let me be the first to tell you He ain't gonna fall in love with your ass Now where the fuck is my money? Non ci credo No vabbè no 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 Esatto Esatto Ma vaffanculo no 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 raga No 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 Trevor Vanilla Non ci credo Pezzo di m- Io non ci credo guarda Ragazzi no sono nero Sono nero assolutamente Ma dobbiamo ritornare Abbiamo fatto tutta questa strada di merda Per controllare di quelle macchine del cavolo E non ci ha pagati Non ci ha pagati Io non ci voglio credere Io non ci voglio credere Dobbiamo fare altre 9 km 9 km cavolo 9 km Ma bene me la vuole che abbiamo una buona macchina E non ci ha pagati Non finisce qui Io adesso vado a salvare Michael perché è la priorità Alla fine è stata anche una bella missione Se ci pensate perché abbiamo un po' capito Qual è il punto di vista di Trevor In tutta questa storia Ovvero che l'ha tradito Ovviamente la ferita è ancora aperta Che Michael l'abbia fatto uccidere Purtroppo era così Ma in realtà lui non voleva Però è stato un compromesso È stato Non l'ha fatto uccidere Michael Secondo me ragazzi Il punto è che lui voleva uscirne Poi il resto l'hanno fatto loro Però Michael ovviamente non poteva mettersi a discutere su questa cosa Lui ne voleva uscire Voleva farlo per la famiglia Per tutti i ragazzi Ovviamente che poi si è sentito solo Ma ovviamente poi la famiglia neanche lo ha ripagato Raga è molto complicata la situazione di Michael Ma veramente è complicata Però la scelta l'ha fatto È stata una scelta ragazzi È complicata da capire Non mi sento di dire che è stata una scelta di merda Assolutamente no E non mi sento di dire che anche la reazione di Trevor È stata una reazione di merda Perché alla fine Sì Che poi l'ha messo nei guai lui Questa cosa vabbè Non ha senso Ma proprio per come è fatto Trevor Alla fine È così Ricordiamo che la deve fare Franklin Ma la devo fare io Quindi Che cosa valuterò nella scelta finale Forse questo non ve l'ho mai detto Il punto di vista di Franklin Perché è sempre Franklin che nella storia deve fare la scelta E ovviamente il punto di vista mio Il punto di vista del gioco Perché il gioco ragazzi È una scelta ben precisa Cioè nel senso Se vogliamo seguire il gioco Noi dobbiamo Ora non ve lo dico Lo ve lo dirò alla scelta finale Anche se già lo sapete Però Non ne parliamo per adesso ragazzi Adesso Andiamo soltanto a salvare Michael Ragazzi Prima di andare a salvare Michael Ipoteticamente Se lo dobbiamo andare a salvare Dobbiamo anche sparare Quindi sono passato un attimo da Ammu Nation Per Prendere un po' di armi Non ci sta nulla di nuovo C'è la pompa d'assalto L'MG da combattimento L'ho fatto restare Ho acquistato pure il lancio a razzi Ragazzi il lancio a granate Ce l'abbiamo Tanta roba Tanta roba Sempre il lancio a granate Il fucino da cecchino pesante avanzato Già c'avevamo qualcosa ragazzi Gli ho messo pure la doccia assolutamente Perché ho scoperto anche che Nelle missioni è molto ma molto utile Questa macchina è verde Che colore di Ammu Però è buona I'mma beat your ass We are women We are free We're bringing in To the patriarchy We are women Here are brave We are women Here are shop We are women We have no doubt We are women We are free Shut the fuck up Thank you Oh my n-word Bop it eh Eh sì vabbè certo Le minacce Certo Certo Dai Trevor Statti calmo Fatti una camomilla Ma perché No faceva ridere Basta Dai Ti ha chiesto scusa Dai I accept Your apology Ok All right So Let's hug it out Mm-hmm No Right You're fucking gotcha Fuck no I'm not funny Fucking asshole Fuck Fuck I had a difficult Childhood Damn man You're alright? No Non sta bene Spoiler Non sta per niente bene Look I love you right But I would've I would've Fucking Look man Lester said you have some information for us about Michael Michael Fuck Michael I hope he's dead Man I know you two Come on man You two had beef before But what the fuck happened in North Yankton Somebody pinched him man Who My friend Ron met these Chinese assholes They're from Yangshan in China We had some problems They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped them Yeah And now it looks like they holding them somewhere in the city Yes Come on bro Oh go fuck yourself You want that piece of shit? That's your fucking business, all right? He's dead to me All right And chances are If and when I see him He's gonna be dead To everyone else as well Hey come on bro Don't do that You're pushing your luck pal What was that? What? What was that? Uh nothing Ah Mazzle Ma no Ma che perché? Ma perché? No Non ci credo Guardate Eccolo là Eccolo là Mamma mia Che pazzo Hey It's me What did Trevor say? Man Michael's being here By a Chinese Crew Because of Trevor Eccolo! Dov'è? Ma dov'è? Dov'è ragazzi? Cerca Michael Avvia Trecliffe nell'angolo in basso a destra nel menu delle app Ok Ricerca Eh? Là? Ok E' qua, e' qua, e' qua ragazzi Ok, si si si, e' qua Ci siamo ragazzi E' qui, e' qui, e' qui Stiamo andando verso di qua, no? Abbiamo anche un limite di tempo ovviamente Ma, ovviamente No, oddio, oddio, scusate, vabbè Normale che non ho fatto un volo incredibile Però, eh, tipo dritto Scusate, mi sto concentrando che abbiamo anche un limite di tempo in tutto ciò Ma se, ma se tipo Passiamo a Michael per vedere se è ancora vivo No, no, vabbè, c'è il tempo Però mi ricordo che si poteva fare in questo switch, in questa missione Allora, ehm, noi ce l'abbiamo veramente Ci stiamo avvicinando ragazzi Ci stiamo avvicinando Eccolo là Ok, ci stiamo sempre più avvicinando Praticamente, è tipo qui ragazzi Dai, e' spostati Dio santo Esatto Come si fa a entrare? Come si fa a entrare ragazzi? Bella domanda Scusate Scusate, scusate, scusate E' qui Ok, questo è il palazzo Ragioniamo insieme Questa è una porta Da fine non possiamo entrare Ehm Questo è un garage Possiamo aprirlo? Sto garage, scusate Vedete che Tipo circa Questo è un garage Possiamo aprirlo? No Qui raga Assolutamente no Forse Con la macchina Possiamo arrivare su Questa città No, che però non porta assolutamente a niente Proviamo a fare il giro del palazzo da qui dietro Versi che troviamo qualcosa ragazzi Ecco, per esempio qui Eh, qui ragazzi Che ci sta? Eccoli Allora ragazzi Potrei Potrei smurfarla Utilizzando il cecchino Così non ci sentono Aspetta Il cecchino però Mi rinno avanzato Silenziatore Ecco, sì, volevo questo ragazzi Non ci credo Vabbè, ma come ha fatto? Dio santo Benedetto Vabbè, vabbè Ragazzi Bisogna Sparare Andiamo ragazzi Tempo Non ce l'abbiamo più Quindi possiamo sparare Qui quando vogliamo Vieni qua Pezzo di fango Sto con scompa Guarda Franklin Sei un genio Ma veramente No raga Non mi mira Mamma mia Sto prendendo i lanciarazzi Mi stanno a fa Innervosire Carabino Ok Ci stiamo Ci stiamo Ok Cazzo Merda Ok Dai Bravo Bravo Franklin Capito Quanta gente c'è Raga C'è troppa gente Si vabbè Ok E infatti Oh 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 Cazzo di fango Schifoso Oh abbiamo recuperato vita Mannaccia Guarda Mannaccia Guarda Lolla Guarda Comunque sto fucile È fortissimo Sto fucile a pompa È fortissimo Ragazzi Ok Ma quanto cavolo Ne sono Oh Calma Oh non era qua Non era qua Appeso ragazzi Ce l'abbiamo uno dietro Uno dietro Guardi uno dietro Ah no Nell'altra stanza Va bene Va bene Ok Andiamo ragazzi Andiamo Ok Pompazza Pompazza Maledi Eh Oh Eh Oh Mannaccia Guarda Guardate Quello lì Sono L'amato No raga Calma Ok Eh Scusate Ho dovuto un attimo Sgravare E quello E quello là Non è morto Minaccia Ok No Mi dissocio Il trituratore Ok Ci siamo ragazzi Ci siamo Avanziamo un po' C'era C'era Un altro Comunque L'ho Visto Oh Come ti permetti Tieni Tieni Mamma mia Mamma mia Michael Anche a sette in giù Guarda Michael Veramente un bro A sette in giù pure Fai il culo a tutti Mamma mia Raga Ma che missione Guardatelo Là È fortissimo Ok Ci siamo Ci siamo Ragazzi Penso al corridoio Sì Ah Quel corridoio Giustamente Io raga Appena Arrivano 3-4 Tizi Là Sì Vabbè Però Nel senso Deve venire pure qua La gente Sennò io qua Che faccio Vado incontro Ma io gli vado Proprio incontro Raga dai Venite qua Pezzi di fango Venite qua Ok Poi Qualcos'altro No No Sì 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 Certo Mamma mia Michael Bravo Le nostre armi Non abbiamo armi Raga Dobbiamo rifornire le armi Fuggiamo dal mattatoio Fuggiamo Andiamocene via Bravo Franklin Tu sì che sei un vero amico Tu sì che sei un vero amico Ci sta che Trevor non l'abbia voluto salvare Ragazzi Ovviamente Comunque Posso passare a Franklin Che c'ha armi migliori Tanto Michael se la cava da solo Ragazzi Nel senso Guardate se la cava da solo Troppo forte Troppo forte Stupido Ma comunque Stai con L'energia da combattimento Che è fortissimo Ok Ci siamo Ci siamo Ragazzi Siamo qui Eh sì Con il compo Da casa tua Oh 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 Chi è da là Da là Da là Uno Da là Tu Tronzo Ah Ce ne erano due Grande Ma ha migliorato pure Frankie Ragazzi Zitto Zitto Andiamo 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 Sì Cosa Dice Cosa 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 non è niente, è quello che gli amici sì, non tutti gli amici da quello che ho ho detto, sì, magari non sì, tu è vero, trevolo il ragazzo che freddo me stiamo qui nel nord Yankton, certo? e lui va a fare uno lui sta a me uccidere, Franklin quando questi cittadini arrivano da nulla e poi si riuscita e la prossima cosa che ho saputo io sono tornato in Los Santos dove sei? sì, grazie a te se, come ti ho trovato? la mia famiglia ha guardato? no, ragazzo, credo credo, credo che stanno fuori io e Lester pensi che qualcosa stavano poi ho parlato con Trevor e ha detto che i cittadini trevor ha detto? non è vero? ma sì, ha detto non è vero non è vero è vero più che il normale che gli amici che gli amici se vuoi vogliono tenere, Franklin ho una notizia che gli amici non è vero che gli amici ho questa altra cosa con Weston qui nel film studio aspettiamo per vedere come funziona e poi parliamo con lui ma è vero che gli amici non è vero che gli amici non è vero che gli amici l'ultimo colpo voi ve ne andate ognuno per le cazzi proprie cioè ha ragione, ha ragione, ha ragione, ha ragione ha ragione, ha ragione, ha ragione ma è vero che gli amici mi è vero che gli amici mi è vero che gli amici ok, allora vediamo ok, allora vediamo ok, hai sicuro che non vuoi arrivare? che, tua grande casa sto parlando di Faze Trevi, questo ragazzo Brad sai cosa hai intenzione ok, guarda ho fatto una chiamata non lo so se è vero ho fatto quello che ho pensato ho avuto una famiglia io ero con una squadra di freddici con niente ho visto un futuro per me, per la mia famiglia io ho avuto tu ho avuto? tu ha avuto ogni freddici che hai mai avuto era quello che o lontano guarda guarda guarda, vedo che sembra freddici non ho capito non ho capito non ho capito non ho capito guarda 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 un giorno e le braci si trattano e non puoi andare ok, guarda 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 E gliel'ha detto ragazzi Ovviamente Franklin non può capire Ma io capisco Nel senso E anche io sono una famiglia Però comunque appena avrà della famiglia Però si Ha bruciato tutti quelli che conosceva Ha fatto una scelta raga Questa è la scelta Però abbastanza da ucciderlo Non lo so ragazzi Ok Siamo ritornati in carreggiata Michael è di nuovo in forma Magari Sì sì Siamo vestiti eleganti Comunque ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Siamo andati a salvare Michael È tutto a posto Però in queste puntate ragazzi Si faranno più interessanti Perché abbiamo un nemico adesso Ovvero Trevor Michael I tuoi amici del bureau Vogliono discutere una cosa Con noi Ho detto di incontrarci alla fabbrica Tessere Vieni Prima che puoi Quindi Abbiamo anche una missione Con Lester Interessante Abbiamo una missione di Salomon Per Devin Che andrò a fare Comunque nel prossimo episodio Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi Noi ci vediamo prossimamente Con nuovi episodi Di GTA 5 Quella storia Un saluto a tutti Alla prossima ragazzi E Boom